Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Allarme Covid dalla Cina. Ieri sera è scattata l'obbligatorietà dei tamponi per tutti i viaggiatori provenienti dal paese asiatico, con voli diretti e indiretti anche a Capodichino. Dopo l'annuncio di un'ordinanza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca è poi arrivata anche la circolare firmata dal Ministro della Salute Schillaci che ha esteso l'obbligo agli scali di tutta Italia. Provvedimento firmato sulla scia dei risultati poco rassicuranti dei test attivati a Malpensa già dal 26 dicembre. L'ordinanza di De Luca è invece molto chiara. I viaggiatori in arrivo all'aeroporto internazionale di Napoli dalla Cina, anche attraverso scali nazionali o internazionali, sono obbligati a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare presso i presidi sanitari allestiti all'interno dell'aeroporto. Tutti i positivi all'antigenico dovranno fare anche un tampone molecolare e un sequenziamento per verificare di quale variante si tratti, oltre che osservare l'isolamento fiduciario prescritto dalle norme. Nell'ordinanza regionale De Luca raccomanda alle forze dell'ordine di assicurare ogni misura finalizzata a garantire il rispetto del provvedimento. Tornano anche le raccomandazioni per i cittadini di indossare mascherine, in particolare negli aeroporti, in tutti i luoghi al chiuso e affollati. Un certo incremento intanto negli ospedali si registra, anche se in questo periodo, specialmente a Napoli e nelle province campane, a picchiare più duro è l'influenza stagionale. È un bilancio in chiaro scuro quello del primo anno della nuova giunta comunale Manfredi. Lo dicono i cittadini, stanchi di doversi confrontare ogni giorno con migliaia di problemi su tutti quello dei trasporti, lo confermano chi la macchina comunale la vive dall'interno, i consiglieri. Un malcontento bipartisan, quello registrato durante l'ultimo consiglio comunale del 2022. Da destra a sinistra il giudizio sull'operato della giunta guidata dall'ex ministro non è certamente dei migliori. La città è sporca, non ha vissuto nessun cambiamento nella gestione della cosa pubblica e i trasporti sono la spina nel fianco che fa più male. Non ho trovato un riscontro positivo passando dalla giunta De Magistris alla giunta Manfredi. Ci auguriamo che l'anno nuovo, con l'avvento anche dei fondi del PNRR, possa portare un beneficio in più alla città. Anche oggi abbiamo in aula la votazione sul consolidato, quindi ci rendiamo conto che ci sono ancora dei problemi seri che vanno affrontati e vanno affrontati con grande cura. Ho visto che Manfredi è molto soddisfatto di questo primo anno della sua amministrazione, ma molti cittadini invece non hanno avvertito, e questo per me è il problema principale, non hanno avvertito un cambiamento nella vita della città, nel modo di funzionare. Io mi riferisco soprattutto alle cose concrete, alla vita quotidiana dei cittadini, perché un conto è il governo nazionale, un conto è la regione, il comune è l'istituzione più vicina ai cittadini. E dunque il problema è il trasporto pubblico, le buche delle strade, i merceppiedi occupati. Questo è la concretezza della vita quotidiana, perché se si crea fiducia su queste cose, allora poi si possono affrontare meglio anche le questioni più di fondo, più di prospettiva. Io credo che le napoletane e i napoletani patiscano una città ancora terribilmente sporca, anzi un aspetto peggiorato, peggiorato sensibilmente. E anche una città dove la grande fiducia data al nuovo corso amministrativo, la voglia di cambiamento o la voglia di tempi probabilmente diversi, ma da quelli difficili del Covid, credo che sia questa l'analisi più corretta da fare, viva un senso di smarrimento. Due manifestazioni davanti la sede del Consiglio Comunale di Napoli in Via Verdi. Da un lato gli operai della Napoli Servizi, dall'altro gli attivisti di Fria Sange Napoli. Gli operai della ditta che gestisce decine di attività comunali sono preoccupati per le voci che parlano della possibile vendita di un ramo d'azienda che metterebbe a serio rischio la stabilità degli operai. Il sit-in per chiedere al più presto un incontro con il sindaco e l'assessore Barretta. Noi chiediamo che l'assessore Barretta ci convochi e discuta con noi per dire la verità su cosa propongono di fare sulla nostra società. Leggiamo da articoli che vogliono fare lo spacchettamento, vogliono fare gestioni di rame d'azienda. Sono voci che girano ma noi vorremmo conferma, vorremmo poter discutere sindacalmente con questo che deve essere un futuro prossimo della nostra società. Chiediamo di essere convocati al più presto, anzi se adesso avessimo la possibilità potremmo chiarire molti dubbi. Noi siamo preoccupati per il futuro della nostra società. Quante persone sono in ballo? Abbiamo di 1450 persone con svariate attività, dalla manutenzione dell'erba, il patrimonio pubblico, manutenzione del verde, manutenzione di ile, pulizie, guardiania. Abbiamo un sacco di attività e tutte queste persone che hanno anche un'età rilevante sono seriamente preoccupate di questi articoli che giornaliermente escono sui giornali. Noi vogliamo capire la verità qual è, discuterla e fare anche noi delle proposte, capire quale futuro ci deve essere per Napoli Servizi. Sempre in piazza, gli attivisti di Fria San Giannapoli, un appello al Consiglio Comunale della Città firmato da Personalità della Cultura e della Società Civile Napoletana per chiedere la cittadinanza onoraria del fondatore di Wikileaks. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato alcuni dei manifestanti. Ci è venuta quest'idea di chiedere al Consiglio Comunale di dare la cittadinanza ad Assange. Per quanto noi siamo consapori del fatto che la cittadinanza ad Assange non risolverebbe, se mai venisse data a Napoli, non risolverebbe il problema grave che sta subendo in questo momento Assange, un problema proprio di violazione dei diritti dell'uomo. Se Assange avesse rivelato i crimini russi in Ucraina certamente sarebbe stato probabilmente proposto per il premio Pulitzer o addirittura il Nobel. Perché ha reso noti i crimini commessi dagli Stati Uniti sia in Iraq, soprattutto in Iraq, ma anche in Afghanistan e ha reso noti tutta una serie di scandali che riguardano l'economia globale dalla Svizzera agli Stati Uniti e allora è diventato appunto un capro espiatorio. In attesa dei fondi del patto per Napoli e dell'arrivo di quelli del PNRR che daranno l'avvio alla ripresa non solo economica ma anche strutturale della città, Napoli fa il bilancio dell'anno che sta andando a concludersi. A stilare un'analisi lucida di quello che è stato il 2022 il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo. L'ultimo anno è stato un anno di grande intensità con una città che è stata capace di uscire dall'onda lunga del Covid anche se ci sono ancora molte famiglie e attività che negli ultimi due anni sono state costrette a indebitarsi. C'è stato poi l'inizio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina che nessuno aveva messo in preventivo a creare non pochi problemi al portafoglio dei partenopei con l'aumento improvviso delle fonti rinnovabili e delle bollette e con un forte rialzo dei tassi e una naturale compressione del potere d'acquisto. Ma il numero uno dell'Istituto di Credito Partenopeo è comunque fiducioso in un 2023 positivo visto anche il boom turistico ai nostri microfoni. L'augurio alla città. Un augurio di innanzitutto di non perdere le tradizioni di non perdere quella nostro mantra che è la capacità di interrelazionarci con tutti quell'umanità di andare a occupare posti importanti naturalmente in tutti i campi ma pensare che le regole talvolta sono anche delle espressioni di grande libertà quindi regole più strette significa essere più liberi e pensare soprattutto che la nostra città quando magari usciamo fuori non dobbiamo denigrarla dobbiamo difendere e pensare ancora che qui abbiamo tante tante opportunità di carattere locale soprattutto i giovani i giovani nostri devono girare il mondo per poi tornare qui a rinverdire la forza della nostra Napoli. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale appuntamento a domani con la nostra informazione Arrivederci